ciao fiorellini ciao fiorelline oggi mangio delle cose che mi hanno richiesto sotto un video se le mangiavo facciamo boom bang e poi il pochè mangiavo mi ha dato la salsa che è di mettercela e mi ha dato pure le bacchette ma io non sono buona a mangiare le bacchette perciò dopo la sigla mangerò con le forchette con la forchetta perché non si può non mangiare con le bacchette via la sigla e ci vediamo dopo ciao ecco sono ritornata adesso possiamo passare e apriamo questa cosa qua la prossima volta che a me piace voglio comprarmi pure il foto e sushi si è rotto il coso cosa tanto è mettiamo un po di salsa maneggiamo infatti io mangio con la forchetta perché la forchetta maneggiamo la mia porno me la faccio assaggiare a piene mmm troppo buono ma a me piace queste cose qua e ok mangiamo questo riso qua a me piace tutto per esempio a ragheri non mi piacciono questi qui a me mi piace tutto invece pure il sushi mi piace questo costa l'ho pagato 7 euro questo è il kiwi mi piace i zucchine mmm ma non so che c'è il riso va mmm non mi piace tanto pure il sushi mamma mia pure il sushi è troppo buono quasi a pesce mmm mamma mia dov'essiamo buono buono non vabbè va beh tiriamo su quanto mi piace il buono mamma mia troppo buono magari lo mangio sempre mi stanno iniziando a venire ricci qua comunque è buono mamma mia troppo invece a quelli non mi piacciono queste cose buono questi non mi piacciono a vedere mi fa come si amano troppo buono ok io finisco a mangiarlo mi ha detto da prendere questo qua e l'ho preso ora vediamo la prossima volta se riesco a comprare sushi facciamo sushi mangio sushi e vabbè piano piano vediamo cosa mangio di cose asiali che robe così a me mi piace io adesso vi posso lasciare perché fine questo video ciao al prossimo video intanto finisco da mangiarlo tutto ciao 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 ciao